Tanti soldi in arrivo per tre senzio d'alcali. Ci sono tre senzio d'alcali che grazie a un transito molto favorevole di pianeti stanno per avere tanti tanti soldi in arrivo. Questi senzio d'alcali sono il segno dei gemelli che grazie proprio alla quadratura favorevole di Saturno ma anche di Giove sta per fare grandi vincite e grandi soldi dovuti a business eccetera. Poi troviamo anche qua il senzio d'alcali della Vergine. Per gli amici della Vergine grandi enormi opportunità di guadagni guadagni veramente importanti che stanno per entrare nelle loro tasche. E per finire passiamo al senzio d'alcali del Toro. Anche per il Toro è un periodo estremamente favorevole dove le possibilità di vincite sono veramente veramente elevate. Bene, metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti!